Perchè? Perchè? Perchè c'erano molto scarico. Leggero. E quello con la macchina se l'hai visto in diretta? Eh, anche quello con la macchina. Infatti è rimasto di 40 minuti a capire che è successo. Quella macchina è quella? Quindi, la macchina è sempre di tipo di macchina. Come cosa c'è? Perchè? 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 Grazie.